Ciao ragazzi, oggi siamo su un gioco di GTA Online e le nuove gare stunt perché ovviamente già sono uscite da due settimane queste gare e sicuramente voglio portarle qui sul canale ok, subito con queste cose verdi non so cosa siano qua hanno messo la seconda parte del checkpoint ci sta un tipo che me vuole fare d'esterna però ok, poniamo subito che ce l'ha fatto Luca 538 e intanto io gli prendo l'ascia dai cazzo primi di nuovo poi sono fighissimi i cerchi di fuoco questo altro che prende l'ascia devo buttarlo fuori devo buttarlo fuori che è solo il nuovo secondo non ci abbattiamo, ok? io lo potrei fare anche in interna ma non mi lo so c'è il tipo che il titolo praticamente è proprio rimasto ma non la vende indietro ragazzi si veste prendi l'ascia prendi l'ascia prendi l'ascia è troppo veloce qualcuno io lo so se cado oh cristo si 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 se volete altri episodio di queste gare stunt me lo dite subito ehm ok me lo dite subito nei commenti se dovete farlo oppure con tanti like fammi capire che potete sostenere questa serie per tempo sono ancora secondo c'è questo tipo che sta correndo ma io mi riprende tanto la scia ha concluso ha concluso sono a poco da loro vedo sono 23 secondi pure che l'altra ha concluso quindi se o se ce la faccio forse no sono altri due check point io non credo che ce la farò cioè ma è sta lì il traguardo c'ho otto secondi c'ho otto secondi cazzo mene cazzo mene quattro tre due uno felici concludi oddio subito che ragazzi seconda gara stunt di oggi stiamo con la nostra pegassi c'è intorno quella cioè la protoxx80 però nessuno può competere con la mia pegassi c'è intorno ecco parte subito e la mia non ci sbanda perchè sbanda e vieni al massimo c'è guarda e e rilascia sul posto povera pegassi c'è intorno se me la fai da sotto e buttate tanto mi so buttato io no 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 ho fatto la stonzata ho fatto la stonzata ho fatto la stonzata la tua cazzo sono da qui questo è quello che li posso raggiungere ho fatto la stonzata ho fatto la stonzata no no perchè mi ha fatto questo perchè mi ha fatto questo quello non ce la farò mai non ce la farò mai no porco dio no non ce la farò mai ok ragazzi terza e ultima gara di oggi ultima gara stunt questo tema che ragazzo intorno mi ha dato questa che la macchina deve legare e lo credo che sia modificata bisogna partire e lo lascio subito dietro e lo credo che non prendi il turbo ragazzo intorno corre proprio a mattora e dai che mi ha cappotto subito e lui passa in prima posizione credo di no guarda guarda ragazzi passi in prima posizione ti giuro perchè io non gli ho fatto ne merito cazzo no cazzo perchè mi passa l'ultima che cazzo cioè mi sono confuso ok credo che lui sta venendo la scia infatti credo che e porco no dai mi ha sbattuto a me per l'aria ok è caduto eh 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 oddio ok la macchina che diventa piccolina subito è subito Coro subito Coro subito Coro subito Coro subito Coro subito Coro se non ce la fa è inutile che dico che non ce la fa e che ce la fa di sicuro ok mi hanno insegnato che se prendi birilli in faccia così bam e uno e gli altri escono gli rp oddio non è che sto tanto assai guarda la mente è benissimo può andarsene da solo e cade giù come un rincoglionito si cazzo cadiamo giù come dei rincoglioniti ah non sono nemmeno in seconda posizione capito cazzo perché sbanda in una maniera ok ragazzi guardate qui subito che la macchina diventa piccolina subito boom 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 e ripola di nuovo e ripola di nuovo qui che mi sta dietro che cazzo vuole a terra perfetto non è vero che ho fatto che ho fatto dieci giri della morte e terreni un po' mi qualcosa mi sa che devo arrivare da quel cerchio qualcosa eh che cosa mi dice che diventa da quel cerchio ehi allora ci provo dai cazzo c'è a luca ok ragazzi mi consiglio se vi è piaciuto commentate condividete lasciate un like questo video e se volete altri video sulle gare stand fatemelo sapere nei commenti e con un sacco di like questo video può finire qua e che ciao ciao